Sì Antonello, siamo in via dei bizantini a Matera nel comitato elettorale di Francesco Lisurici, candidato nella lista La Vera Basilicata a supporto di Vito Bardi, presidente. Francesco Lisurici, possiamo dirlo, oramai il centrodestra in Basilicata è pronto per la festa. Diciamo che quello che avevamo previsto si sta per realizzare. Siamo ormai alle battute finali, il centrodestra sicuramente sarà vincente per il prossimo quinquennio, Bardi, da noi già preannunciato all'inizio di questa campagna elettorale, sarà il prossimo presidente e quindi noi siamo contenti e soddisfatti di essere a suo fianco dal 2024 al 2029. Le due liste a sostegno del candidato presidente Vito Bardi hanno offerto un concreto aiuto nella vittoria della coalizione al centrodestra. La Vera Basilicata insieme all'altra lista del presidente saranno sicuramente un concreto aiuto per questa vittoria che appunto ci vedrà governare la Basilicata per i prossimi cinque anni e noi della Vera Basilicata saremo addirittura soddisfatti e contenti di essere al suo fianco e di dare un fattivo contributo per lo sviluppo della Basilicata appunto per il quinquennio 2024-2029. Noi ringraziamo Francesco Lisurici per la disponibilità. Per ora è tutto. A voi la linea.